Ciao ragazze, io sono Stefano Ardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. Molti di voi mi chiedono se è possibile progredire nel Muay Thai e nel Krabi Krabong anche allenandosi da soli, ossia senza frequentare una palestra oppure dei corsi con altri compagni di allenamento o sparring partner. Ebbene, questo è possibile, io stesso sono fermamente convinto che questo sia possibile, ossia allenarsi da soli appunto senza bisogno di tanti compagni di allenamento. Naturalmente si potrà progredire fino ad un certo punto, nel senso che la verifica attraverso uno sparring con altri compagni oppure degli esercizi a coppie a un certo punto saranno pressoché indispensabili, ma questo dipende sempre dagli obiettivi che uno si pone. Certo le caratteristiche fondamentali di un combattente di Muay Thai, ossia il senso a distanza, il timing e le proprie tecniche di esecuzione possono essere sviluppati anche da soli e quindi senza necessità appunto di uno sparring partner. Lo stesso ho attivato appunto delle mini classi dove appunto i vari ragazzi mini classi con numero limitato di persone dove ci si può allenare in completa sicurezza, ma dove appunto oltre alle varie tecniche, oltre al combattimento, cerco sempre di insegnare appunto dei trick o dei sistemi di allenamento personali dove qualcuno può allenarsi anche da solo senza appunto necessità di frequentare per forza ogni giorno appunto queste mini classi. Se avete domande quindi vi consiglio di contattarmi tramite i miei social oppure di visitare il mio sito internet www.stafanoardi.it e cercherò di darvi appunto tutte le soluzioni migliori per i vostri allenamenti. Ciao e buon allenamento!